Siamo a Ribera, Città delle Arance, dedita da sempre all'agricoltura. Mio nonno, mio padre, sono sempre stati agricoltori e si sono occupati di questo. Io ero il più piccolo della famiglia, le mie sorelle riuscivano a scappare, mia nonna mi costringeva a pelare le zucche. Per me è stato il primo battesimo nella produzione delle confetture e delle zuccate. Grazie a tutti.